Mesi di trattative per salvare il posto di lavoro a più di 400 lavoratori della storica azienda di penne. Labrioni, dopo aver annunciato i suberi sul personale, dà via un lungo tavolo di trattative con i sindacati che provano a scongiurare la perdita di posti di lavoro con rimodulazione degli orari, internalizzazione di risorse e offrendo uno scivolo di più di 30.000 euro, azioni che riducono sensibilmente il numero dei lavoratori a rischio. Le più importanti sicuramente sono state quelle del 15 aprile dove i lavoratori chiamati ad approvare l'accordo del 4 aprile hanno risposto in massa e il 90% di loro hanno approvato l'accordo. Dopodiché ci sono state varie tappe perché abbiamo iniziato le varie conciliazioni per la riduzione d'orario da 40 a 32, da 36 a 32 e da 20 a 16. Dopo c'è stata il 13 giugno una votazione sul nuovo orario di lavoro dove il 90% dei lavoratori ha partecipato al voto e ha scelto il nuovo orario di lavoro per il proseguo della loro attività lavorativa. Resta in piedi ancora il nodo per 70 lavoratori che si trovano in mobilità volontaria e dopo varie proroghe e incontri al mese continuano a non avere certezza sul proprio futuro. Io volevo dire che ringraziavo i lavoratori perché solo grazie a loro si è ottenuto questo risultato e abbiamo fino adesso scongiurato la mobilità forzata, quella prevista con la 223 del 91. E' esclusivo merito dei lavoratori perché hanno capito che attraverso la riduzione d'orario, attraverso l'accordo di flessibilità si poteva evitare questa situazione. L'ultima proroga prevista avrà scadenza per fine luglio e tra le carte in mano per risolvere la vertenza ci sono ancora gli ammortizzatori sociali ad oggi mai utilizzati. Torneremo al Ministero alla fine della volontaria e vediamo quali strumenti si possono mettere in campo ancora per quanto riguarda la gestione del numero che sarà alla fine della procedura della mobilità volontaria.